Tu e te 4 punti dei gnocchi di qui, ma tu e te 4, 5, 6 e 2, sicuro tu non sei tu. Sei, sette, otto, dito, vieni, faccia gli occhi, sette, otto, nuove, sempre di colore non sei dovuto. È Freddy Krueger! Bambino, veniamo qui, che ti faccio all'osto l'abbraccio insieme. Bambini, facciamo il giochino, chiudeteli occhi un pochino, poi sarò io poi con il mio guanto a casa lì. Ah, e tu che sei, che uomo? Ma un po' si buttano i miei dei, se ci sono passati, io te lo metto gli altri, dov'è un fuma? Forse, non siete, dov'è un fuma? Come potete vedere gli sparagliani concorrente, sono il solo, il vero e unico amico di bambini. Oh, che dito lungo che hai, forse è tuo vicino, mi riporta, ne prendiamo pure quello, mongrino. Ehi, Luda! Ma che fossa, chi sei? Sono un tripole fedente, un marziano fussolente, un alieno disgustoso, sono assai pericoloso, sono bischioso, caccoso. La mia arma fatale è una pernacchia lentale, a di grida e sofforosa. Secondo me nessuno ha paura di te, sei fantascientifico, ma sono un maledico. Sei troppo improbabile, sono intramortabile. Perché? Posso trasformarmi da marziano a disumanizzato, pronto a divorare tutto e tutti perché soldi vuole fare. Posso diventare un cinico in carriera, un moderno praticante, un politico rampante, pronto a divorare tutto e tutti pur di prevadere. Posso diventare disumano e senza scopo, senza scopo innamorare, posso diventare un piramio sociale. Sono ancora bambini, non li puoi spaventare così, hai capito? E poi puzi, puoi andare. Visto, non l'avevo detto, le paure indotte sono fatte così, colpiscono e svaniscono. Grazie.